Una piattaforma gratuita per i soci del distretto urbano del commercio locale non solo che punta a stimolare le attività anche imprenditoriali attraverso i nuovi sistemi di vendita. E' il nuovo e-commerce del Duc di Conversano, un'idea che vuole supportare le attività imprenditoriali nell'avere grande visibilità sfruttandone le potenzialità anche in termini turistici, tanto da essere in lingua italiana e inglese. Questa nuova piazza virtuale del comune di Conversano sarà un punto d'incontro tra commercianti e cittadini per far crescere il commercio di prossimità. La tecnologia diventa un alleato per raggiungere una platea ancora più ampia di utenti e connettere in modo virtuoso le misure di sostegno e supporto alle imprese commerciali e artigianali del territorio. Sono convinto che questa piattaforma possa svolgere un servizio davvero importante per il commercio conversanese. Il sol fatto di dimostrare che c'è evoluzione, che c'è innovazione, credo che sia un ottimo segnale per coloro che sono i fruitori. Mettiamo un servizio a disposizione dei commercianti ma soprattutto a disposizione di coloro che sono i loro clienti. Una piattaforma tecnologicamente avanzata che verrà addirittura fatta in due lingue proprio per intercettare non soltanto le esigenze di consumatori del territorio, zone limitrofe, ma anche per intercettare delle esigenze turistiche che inevitabilmente oggi sono molto importanti per far vivere le attività impreditoriali, in questo caso in particolare del comune di Conversano.